ciao belle mia ciao a tutti andiamo a vedere che fa oggi gittarella oggi vi preparo un dolce gagliardo che non piace a barbara e allora vuol dire che mi manda proprio ai pazzi allora iniziamo dice vai sei uova eccole qua e belle fresche che sbatto a mano ecco adesso 300 grammi di zucchero va bene ecco qua ai gildarella ecco qua due bustine di vanillina ecco fatto due bustine adesso aggiungiamo la ricotta questa qui è 900 grammi di ricotta vedete che io vado a mettere piano piano sono tre confezioni da 300 ecco qua va bene voilà piano piano anche la dobbiamo questa è semplice semplice ma quanto è buona raga questa è di una bontà unica veramente buona sarà domanda la gildarella gli piace c'è vero gildare buona poca per volta anche perché rimane troppo grumulosa oggi dare eccola ecco così ecco qua girate brava brava gildarella gildarella ecco qua vedete che cremina al bacio proprio ecco fatto ecco adesso un po alla volta questo che sto mettendo è amico di maio di maio allora ecco qua ecco qua non ho messo un pochettino un foglietto di semi qua sotto è così stanno più tranquilli che si attacca niente qua adesso ci mettiamo un po di farina ecco qua ecco qua ecco qua adesso la mamma mette ah ti è mamma mia uno spettacolo uno spettacolo che crema che è adesso è buono pure così vedete come deve venire bello tutto omogeneo ah qui proprio tiè stiamo a mettere il pezzo forte eh eh qualcuna l'ho pure tagliata queste sono amarene queste sono amarene sciroppate eh va bene ecco me ne manierei in quintale io questa pizza questa è la tortina che piace a Barbara questa torta buona capito? che buona mettete un po' a distanza così ecco fatto un po' di sughetto pure che male non ci sta eccole eh sono le amarene quelle nello sciroppo ecco ecco guardate queste le trovate da perfetto eh che spettacolo mamma mia girtare stavo a tagliare e poi ci ho ripensato e ho detto ma no ma è molto sana beh qualcuna tagliata e qualcuna sana poche e l'altra è sana e buone che buone mamma mia a lei piace tanto a Barbara ah tanto 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 allora andiamo e mettiamo questa mannaggia qua va qua c'è posto guarda mettiamo qua e qua va vai tiè aaaaa aprite cielo ma ci volemo mettere un po' di sughetto ma sì dai buona è buona ma quanto è buona quanto è buona adesso la vado a mettere in forno statico vabbè se ci avete ventilato come vi pare e io però la metto al forno statico questa qua mi piace più corta là dentro ma controllo meglio capito e niente io a 170 180 180 180 170 vado la man forna vai gildarella meraviglia delle meraviglie guardate che bella che pizzetta gildare ecco guarda come l'ho fatta eh così buona sei sempre rotta grazie gildarella quando me la fai guardate un po' ecco qua vai gildare siamo tutti con te di fartaglio dai gildare un pezzetto su vai 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 guardate com'è bella morbida eh spettacolo vedete c'ho l'acquolina io questa è la tortina che piace a barbellina buona vedete ecco qua ecco fatto guardate dentro come viene una crema sembra sembra proprio una crema dentro ma è certo che è una crema spettacolo ecco fatto adesso adesso per servirla ah allora un po' come ce la servi qua io la servo così eh questo dolce ecco fatta va bene amore e che vodica faa no io adesso la devo assaggiare guardami che bella è una scotta eh soffia soffia gildare soffia soffia no no scotta troppo ma che davvero soffia gildare soffia gildare am una crema ci avete presente il latte il sapore della panna ecco a te che stava cascando no 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 buona gildare allora quella a te e questa a me eh va bene dai che spettacolo allora questa la dovete faa e poi ci dovete di se vi è piaciuta eh oh ah ti sta da passaggiare ah questa è roba che mi piace a me bella mia allora spero che vi sia piaciuta un salutino a maria netta ciao maria un bacio ciao maria baci grandi anche da me belli e grazie per le cose belle che è scritto mamma me le ha fatte tutte leggere eh grazie un bacione potete capire ti è vai guarda che c'è solo quella eh perciò ti è stata conto ciao belli belli mia spero che vi sia piaciuto fatelo perché questo piacerà a tutti semplice semplice un 4 e 4 8 fate il dolce uno spettacolo una bontà a proposito noretta ci è voluto per cocero eh io l'ho tenuto a 170 però quasi all'ultimo l'ho dovuta abbassare a 160 perché dentro ancora non era tanto cotto piano 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 va bene va bene baci grandi a tutti ciao belli sempre dal cuore ciao ciao